ehi la bella a tutti ragazzi benvenuti o bentornati su amnesia live e dunque nell'ultimo video ragazzi grazie 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 in una settimana abbiamo fatto mille visualizzazioni 100 like e più di 120 iscritti al nostro canale youtube amnesia live grazie a tutti ragazzi come convertire davvero la sense da gioco a gioco ma attenzione in base al fov e non in base a come abbiamo fatto finora e come abbiamo spiegato in diversi video precedenti su questo canale se arriveremo a 50 like in questo video sarò felice di portarvi un nuovo programma che mi ha fatto conoscere anche questa volta un mio cliente nel nostro servizio di coaching boost fps ovvero net limiter avremo la capacità di limitare l'accesso a internet di determinati programmi che decideremo noi mentre invece dare la priorità per esempio al nostro gioco preferito valoranto call of duty questo ovviamente stabilizzerà la nostra connessione e diminuirà il nostro ping quindi mi raccomando metti like adesso prima che te lo dimentichi se anche tu vorrai un video su net limiter mentre invece dal momento che abbiamo già raggiunto i 50 like negli altri video ragazzi grazie 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 vi posso tranquillamente dire i prossimi video che arriveranno su questo canale ovvero la mia routine che sarà strettamente legato al video che state guardando oggi e poi l'altro video sui quattro movimenti fondamentali da fare col mouse per esempio se uno comincia a giocare da mouse e tastiera venendo da controller oppure perché ha comprato il suo primo pc beh io ti potrò assolutamente spiegare quattro movimenti che ti serviranno in qualsiasi situazione da fare col tuo mouse sul tuo tappetino quindi questi saranno i prossimi video che arriveranno sul nostro canale youtube sappiate questo però avevo preparato delle kill spettacolari a supporto di quanto sto per spiegarvi dal momento che è una mia scoperta quello che vedrete tutta farina del mio sacco e avevo anche preparato una dimostrazione a diversi fov con diverse essence in diversi giochi direttamente in aim lab il video sarebbe venuto troppo lungo quindi ho pensato di fare come abbiamo fatto finora reciproca fiducia io vi spiego vi faccio un discorso a 360 gradi poi provate e mi fate sapere sotto nei commenti in questo modo riusciamo a ridurre la durata del video andare direttamente al succo sappiate semplicemente che dopo aver sperimentato tutto ciò che vedrete in questo video io di proposito ho passato i successivi dieci giorni senza giocare una partita anche perché sono stato seppellito dalle lezioni di coaching boost fps dai clienti che vengono dal nostro canale youtube quindi grazie a tutti dieci giorni senza giocare una partita dopodiché sono tornato praticamente ieri a giocare in valorant ok il risultato è stato assolutamente da paura abbiamo portato diversi video che attenzione non sono esattamente sbagliati ok cioè come noi abbiamo convertito la nostra sense quindi limita da gioco a gioco quindi limitandoci a convertire i centimetri 360 gradi non è sbagliato semplicemente il metodo che vedrete in questo video è relativo al fob ed è senza dubbio un metodo molto ma molto più preciso cosa è la nostra sense e cosa è i centimetri 360 gradi come possiamo vedere in call of duty abbiamo 5 di sense in game e 800 dpi che andremo prontamente a convertire i centimetri 360 gradi direttamente in valorant ma se dovessimo misurare appunto in centimetri 360 gradi la nostra sense come facciamo ce lo dice direttamente mouse sensitivity ovvero 34.63 64 centimetri 360 gradi ovviamente abbiamo spiegato tutto sul canale della differenza di usare una sense 360 una sense 180 ok quindi 360 gradi per fare una completa rivoluzione su noi stessi in game detto questo fino ad oggi ci siamo limitati a convertire semplicemente i centimetri 360 gradi quindi in call of duty abbiamo 5 e 800 dpi di sense ma in valorant ok lo possiamo vedere sotto si converte in 0.471 esattamente 34 centimetri eccetera eccetera e sempre a 800 dpi ci spostiamo su aim lab perché la stessa cosa la fa esattamente aim lab come possiamo vedere in questo caso abbiamo call of duty vanguard ma è un esempio va bene qualsiasi call of duty va bene qualsiasi altro gioco perché distance 360 25 centimetri ok una sense classica 1.73 in game con 120 di fov e ovviamente 3200 dpi nel caso del sottoscritto ma se noi andiamo a cercare per esempio valorant scopriremo che la sense cambia rimangono 25 centimetri ma 0.16 ok in game con 103 di fov che è il fov di valorant e sempre a 3200 dpi quindi abbiamo scoperto intanto come convertire esattamente i centimetri 360 gradi in mouse sensitivity ne abbiamo già parlato ci sono dei video su cui potete approfondire la stessa cosa in aim lab siamo in un esercizio classico di aim lab ok il grid shot ultimate come possiamo vedere qui questa è la mia sensibilità andiamo in settings e in controllo come possiamo vedere la mia sense è sempre quella 3200 dpi 25 centimetri 1.73 in game e 120 di fov fortnite ed essendo anche un gioco in terza persona utilizza 80 di fov call of duty da 60 a 120 valorant 103 counter strike 90 di fov se noi andiamo per esempio a mettere 80 di fov e a cliccare salva manteniamo sempre 25 centimetri 1.73 e ovviamente come possiamo vedere qua sotto i 3200 dpi come possiamo vedere cioè è palese la nostra sensibilità è più veloce perché il campo visivo si è ristretto vi do questa regola fondamentale più il fov aumenta quindi da 80 a 120 più la nostra sensibilità deve essere veloce veloce intendo che se noi usiamo 30 centimetri con 80 andremo a utilizzare per esempio 25 o 20 con 120 più il nostro fov è alto più la nostra sense dovrà essere velocizzata perché con 120 di fov avremo più campo visivo da tenere d'occhio e non sarà affatto tutto casuale tra poco vedremo una formula matematica con cui voi potrete calcolare qualsiasi sense con qualsiasi fov 80 103 90 120 ma anche 101 102 103 104 design e 2 utilizza 101.08 di fov quindi avremo bisogno di una maggiore precisione ma la stessa cosa succede anche al contrario quindi se io adesso vado a mettere 120 di fov ok sempre con la stessa sense come possiamo vedere essendo che il campo visivo si allarga la nostra sensibilità ci apparirà più lenta ed è più lenta tutto questo discorso che io vi sto facendo è relativo alla nostra memoria muscolare che vi piace tanto so la memoria muscolare quindi con questo metodo convertendo la sense in base al fov vi corrisponderà tutto il 45 gradi il 90 gradi il 180 gradi e anche il 360 gradi e la stessa cosa si può notare semplicemente facendo l'esercizio grid shot ultimate ok è molto semplice da capire in questo caso stiamo provando un fov di 60 che è il minimo che si può utilizzare in call of duty ma adesso veniamo alla formula e veniamo a spiegare come effettivamente possiamo convertire esattamente la nostra sense dal gioco a gioco in base al fov permettetemi di mostrarvi il prodotto finito il risultato di tutti i miei test di tutti i miei esperimenti nelle diverse sense di cui io non mi accorgo che cambiano all'interno di un gioco all'altro e ovviamente cambierà quel punto solo il fov il che ci semplifica non poco la vita ho segnato call of duty valorant destiny 2 fortnite e upers legends questi sono i giochi che io porto sia in live o anche offline in cui mi alleno i giochi che mi piacciono di più e come possiamo vedere si parte sempre da call of duty perché quello che utilizza il fov più alto quindi troviamo la nostra sensibilità con un fov di 120 in aim lab quindi facendo gli esercizi che vi ho detto prima e ovviamente qui abbiamo un fovo di 120 un'assenza di 1.73 3200 dpi che corrispondono a 25 centimetri passiamo al secondo fov più alto che è quello di upers legends ok ovvero un fov di 110 per avere un'assenza di 0.48 3200 dpi e si passa visto che la differenza è poca da 120 a 110 ma comunque la differenza c'è tutto improntato la nostra memoria muscolare a 27 centimetri e per non impazzire io in primis mi sono sempre segnato la mia bella proporzione quindi 110 di fov di apex sta a 120 di call of duty come 25 centimetri di call of duty sta a 27 centimetri che la nostra sensibilità che dobbiamo utilizzare in upers legends voi non ve ne accorgerete neanche sono anche sicuro che voi in matematica siete molto più bravi di me quindi non avrete problemi anche sicuramente a scoprire nuove cose fatemi sapere sotto nei commenti passiamo al terzo fov più alto che è quello di valorant quindi fov 103 e non si può modificare il fov in valorant quindi bloccato a 103 sens 0.14 ok sempre a 3200 dpi e si passa a 29 centimetri passando da 103 a 101 ok in destiny 2 io potrei tranquillamente utilizzare la stessa identica sensibilità di valorant in destiny 2 da 101 a 103 di fov che cambierà mai eppure secondo la nostra proporzione quindi 101 di fov sta a 120 come 25 sta a 29 a livello di memoria muscolare di massima precisione che noi possiamo avere quindi perché non approfittarne si passa da 29 158 a 29 477 parliamo di un cambiamento che il nostro cervello non è neanche capace di rilevare ma come possiamo vedere sulla carta e carta canta da 103 a 101 con la dovuta proporzione la sensibilità cambia dal momento che appunto non posso utilizzare decimali in destiny 2 perché si può utilizzare solamente 1 2 3 4 5 ok andiamo a modificare i dpi molto semplice quindi non potrò utilizzare 3200 dpi ma solamente 2350 e ovviamente chiudiamo con l'ultimo fov il più basso di tutti che è quello di fortnite fov di 80 con un'assenza di 1.4 anche qua non potendo modificare con i decimali si cambiano modificano i dpi 3150 dpi per poter arrivare esattamente ai 60 centimetri 80 di fov di fortnite sta a 120 di call of duty come 25 di call of duty sta a 60 in fortnite voi non vi accorgerete neanche che state passando da 80 a 120 ve ne accorgerete ma da 40 a 60 non ve ne accorgerete voi avrete la stessa identica memoria muscolare di sempre vi consiglio di cominciare nel caso che voi non abbiate ancora trovato la vostra sense molto importante direttamente in aimlab e con 120 di fov quando io realizzo un nuovo video faccio finta che tu non hai mai giocato a mouse e tastiere non hai neanche trovato la tua sensibilità ok quindi vai direttamente in aimlab metti 120 di fov setta la tua sens e i tuoi dpi e comincia a sperimentare e ti fai questo esercizio grid shot ultimate insieme al six shot ultimate ok uno è per la velocità l'altro è per la precisione comincia con 120 di fov comincia per la velocità e per la precisione e arriverai ad una sens quella è la tua sensibilità perfetta per 120 di fov ci spostiamo direttamente in calcola le proporzioni online quindi date su google va bene qualsiasi ed è qui che viene la nostra formula seguitemi perché vi spiegherò tutto nella lettera b noi andiamo ad inserire 120 dal momento che noi stiamo partendo con una sensibilità di 120 di fov ok quindi non più convertita relativamente ai centimetri 360 gradi ma al fov noi ci interesserà solamente il fov e per esempio dobbiamo convertire la nostra sensibilità da 120 di fov a 80 di fov che per esempio è fortnite quindi andiamo a mettere 80 nella lettera a mentre invece nella lettera c noi andremo ad inserire la nostra sensibilità relativa a quella che abbiamo già trovato a 120 di fov quindi per esempio 40 centimetri e andiamo a scoprire che appunto si applica la regola che vi ho detto poc'anzi ovvero più il fov è alto più l'assenza deve essere velocizzata mentre più il fov è basso per basso si intende 90 80 60 di fov più l'assenza deve essere rallentata non è abbastanza preciso sebbene voi possiate provare entrambi i metodi in aimlab e direttamente in game vi trovate meglio magari avendo gli stessi centimetri 360 radio utilizzate aimlab utilizzate mouse sensitivity e il gioco è fatto non vi trovate bene volete qualcosa di più precisi siete più legati alla vostra memoria muscolare beh assolutamente questo è il metodo che fa per voi quindi possiamo scoprire che con 80 di fov per avere la stessa identica memoria muscolare non vanno più bene 40 centimetri 360 gradi bensì 60 e quindi e quindi a quel punto torniamo in mouse sensitivity dove per esempio qui sopra abbiamo messo fortnite ma lo possiamo fare tranquillamente anche in aimlab quindi abbiamo mantenuto i nostri 800 dpa e abbiamo cominciato per esempio con una senza di 4 che ovviamente ci dà 51 centimetri quindi se noi per esempio andiamo a mettere 3 di senza siamo già over ok perché 68 dobbiamo scendere o alzarla un pochino fino ad arrivare a esattamente 60 centimetri i decimali all'interno dei nostri videogiochi quindi se noi per esempio andiamo a mettere destini 2 come potete vedere c'è una discrezia di meno 15 centimetri e non si può fare niente per avere in banca in base al fov la stessa identica sens siamo costretti ad interagire direttamente all'interno del nostro software del mouse ok e ora qua vi svelo il perché come potete vedere io qui ho diversi dpi per diversi giochi quindi quando il gioco non mi permette l'uso dei decimali come per esempio in valorant quindi 0.536 di sense in fortnite per esempio possiamo mettere 1.1234 fino a 235 ok di conseguenza sappiate che per questo motivo che per esempio il logitech gibrux 2 che abbiamo recensito sul canale permette degli incrementi di dpi pensate di 20 dpi è un caso assolutamente no quindi io posso mettere 420 dpi 440 dpi e quindi con incrementi di 20 altri mouse come per esempio l'amso permettono semplicemente dei degli incrementi di 50 dpi quindi 400 450 dpi 500 dpi quando non potete diciamo calibrare attraverso il gioco dovete siete obbligati ad compensare attraverso i dpi vi posso dire con certezza che utilizzare una sense bassa per bassa si intende lenta ok non vi garantisce assolutamente lo vedremo nel prossimo video sulla mia routine una maggiore precisione assolutamente così come ne abbiamo già parlato sono assolutamente obsoleti i 400 dpi vi posso assolutamente dire di scatenarvi di sbizzarrirvi provate anche senza molto veloci soprattutto a 120 di fove e poi da lì quindi una sense veloce intendo 20 25 30 centimetri ok questo è il range su cui io vi consiglio per quanto riguarda il 120 di fove da lì andate semplicemente a convertire il tutto ok in base al gioco in base al fove e vi aiutate con i dpi voglio che da oggi voi considerate i dpi semplicemente come la sensibilità del mouse noi quando andiamo a giocare non so se lo sapete io ve l'ho detto tante volte abbiamo tre sense diverse abbiamo la sensibilità del desktop che si può regolare tra l'altro abbiamo la sensibilità del mouse che sono i dpi e abbiamo la sensibilità del gioco andando ad abbassare il più possibile quelle del gioco abbiamo la maggiore precisione che ci garantisce il motore di gioco mentre invece per quanto riguarda i dpi più aumentano i dpi minore sarà il ritardo l'input lag che avremo durante le nostre partite e aumenta anche la precisione quindi diminuisce il ritardo aumenta la precisione all'aumentare dei dpi se io per esempio devo mettere un fove molto usato per esempio su call of duty che è 110.04 ok come possiamo vedere si passa da 40 a 43 centimetri ok molto semplice su b va sempre messo 120 che è il massimo di fove per esempio in call of duty mentre noi in tutti quanti gli altri giochi destiny 201 valorant 103 counter strike 90 fortnite 80 hanno tutti un fove più basso di call of duty che è il massimo appunto è 120 quindi questo ci semplifica la vita una volta che noi abbiamo trovato la nostra sensibilità perfetta a 120 di fove in counter strike beh si passa da 40 centimetri in call of duty a 53 e ovviamente lo stesso discorso vale se io dovesse utilizzare la mia attuale sense in call of duty che è di 25 centimetri idem si passa per esempio ad un 29 in valorant quindi se noi utilizziamo per counter strike ovviamente da 25 centimetri in call of duty si passa a 33.33 io vi consiglio sempre di giocare con 1 più 1 meno 1 sia in name lab ma anche in game per trovare la vostra sensibilità perfetta ma è chiaro che non dovete essere al millesimo al centesimo arrotondato e dunque ragazzi siamo arrivati alla fine mi raccomando like commento iscrizione condivisione per il vostro amnesia per qualsiasi info circa i nostri coaching boost fps abbiamo tanti servizi discord amnesia live grande tra il posto delle descrizione trovate ovviamente il link del del nostro server discord per il resto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio da amnesia ciao a tutti